Terzo successo casalingo consecutivo per la Salernitana. Contro il Perugia, protagonista Divai, autore di una doppietta che gli consente così di diventare il nuovo capocannoniere della B con 5 gol. Abbiamo appena visto la sua prima rete al 32esimo della ripresa. Il raddoppio della Salernitana arriva al 41esimo. Divai si gira bene in area e batte il portiere del Perugia, Kocic.